Ma tranquilla, cioè non è successo... Ascolta, guarda, non mi dimenticare... Calmati, calmati, posso parlare... Felici, sono contenta... Mi fai parlare, no, no, mi fai parlare un attimo... Dove vai? Ciao a tutti, oggi tradirò la mia ragazza e vi farò vedere un modo per farsi perdonare. In tutto ciò serve una telecamera e un amico. Guardate cosa succede. Che bel cagnolino, che bel cagnolino... Che carino... Sì... A me piacerà anche Ale. Sì, adesso chiamo la mia ragazza... E preparati che si arrabbierà. Vediamo che dice. Perfetto! Baby, sto arrivando! Baby, sì, io sono qui alla solita panchina, ti aspetto. Sì, 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 sono qua, sono arrivata. Va bene, va bene, ti aspetto. Ciao, ciao! 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 Io stavo abbracciando il cane. Sì, stavo abbracciando il cane. Ma sai che sto con lui? Ma in realtà odio non è che... No, ma non abbiamo fatto niente. Ma non abbiamo fatto niente. Tranquilla, cioè... Perché sono apposto con il cane? Guarda, dove vai? Dove vai? Ma io ho già capito tutto. Ma stavo io... Ma pensate che sia subito. Ma tranquilla, guarda che stavo con il cane. Ma tranquilla, cioè... Non mi toccare. Calmati, calmati. Non mi... Posso parlare? Felici, sono contenta di... Mi fai parlare? No, no, mi fai parlare un attimo. Dove vai? No, 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 non mi devi toccare. Ma calmati. Sei veramente uno str***o. Ma tranquilla, è uno scherzo, è uno scherzo, guarda. È uno scherzo, guarda, è uno scherzo. È uno scherzo. Hai visto? Ma stai facendo mi... Sì, è uno scherzo, vedi, guarda, guarda. Ma sicuramente? Sì, 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 franquilla. Sì, sì, tranquilla.